L'Associazione degli Ex Consiglieri della Regione Piemonte ha organizzato la conferenza Un Laboratorio Cosmopolitico, Illuminismo e Storia a Torino, tenuta da Giuseppe Recuperati, docente emerito dell'Università degli Studi di Torino e accademico dell'INCEI. I lavori sono stati aperti da Frederick Leva, redattore responsabile della rivista storica italiana. Riflettere sul passato per trarre dal passato gli insegnamenti del presente, per operare nell'attualità quotidiana e lo scopo di questa iniziativa è dell'Associazione Consiglieri Regionali che tende attraverso queste iniziative a portare avanti il discorso che è stato alla base di altre iniziative.